Micelizze è fermo, va sul sinistro di potenza, Micelizze doppio dribbling, Micelizze il terzo dribbling e poi la mette dentro la firma di Micelizze, Lempoli andrà a giocare la finale per andare in Serie A Cala il sipario, vince Lempoli 4-1 contro il Novara, giocheranno loro la finale per andare in Serie A